non vi piace la reliquia deathless volete un sostituto che vi faccia comunque attivare tutte le consacrazioni urad ma non vi lascia un hp quindi non potete più usare niente relativo alla salute beh allora questo scudo fa por voi front loader scudo leggendario potrete ottenerlo sconfiggendo il soldato bin su athenas ho già fatto una guida su dove trovarlo come sconfiggerlo che vi invito ad andare a guardare detto ciò vediamo questo scudo front loader capacità 102.985 ritardo ricarica 4.8 velocità di ricarica 8.556 caricatore frontale tartaruga tartaruga un'altra assicurazione sulla vita non si rifiuta mai in camera il 60% della tua energia massima lo converte in capacità scudo più 80% capacità meno 20% energia massima questi sono dei bonus che ho ottenuto quindi guardate un po' ho quasi 140.000 di scudo e la mia vita sta sotto la metà quindi effettivamente può attivare tutte quelle che sono le consacrazioni urad per chi non lo conosce quelle che sono quando sei sotto il 50% di salute infliggi il 100% di danni da radiazione in più quelle consacrazioni lì con questo scudo le attiverete tutte e vi rimarrà lo slot libero per poter usare delle reliquie diverse come ad esempio la company eccetera il company man eccetera senza dover per forza fare sempre snowdrift deathless otto idol deathless cut force deathless eccetera fine comunque ci sono scudi molto molto migliori come ad esempio il revolter guardate un po' cosa fa un po' cosa fa un po' cosa fa un po' l'a una